Pio di nome e di fatto. Con questa definizione è stato definito padre Pio delle Piane, un grande figlio spirituale di padre Pio, un'altra figura che ci accompagna verso la sua festa liturgica con Francesco Bosco. Dunque Francesco, abbiamo visto nei giorni precedenti due grandi santi, potremmo definirli così, come vengono definiti anche da coloro i quali li hanno conosciuti, padre Olinto Marella e don Giacomo Gaglione, padre Pio delle Piane è un altro figlio spirituale di padre Pio da Pietrelcina, non a caso condividono il nome ed è in cammino verso la santità. Sì, la grande famiglia spirituale di padre Pio che è contornata non solo da tanti laici, laiche, religiosi, preti, ma anche di uomini e donne che hanno trasformato la loro vita, ne hanno fatto un progetto d'amore e la loro vita ha un percorso verso gli onori degli altari, come padre Pio delle Piane. Ne abbiamo parlato nel numero di marzo del 2019, nella rubrica Luci su padre Pio, proprio perché è uno di quelli dove lo stesso padre Pio, quando arrivavano da lui una serie di pellegrini che appunto arrivavano dal luogo dove viveva questo suo figlio spirituale, diceva ma perché venite da me? Andate da padre Pio delle Piane e si rivolgeva a queste persone che arrivavano da Roma, infatti nella chiesa, nel santuario di Sant'Andrea delle Fratte a Roma, proprio nel centro di Roma, dove padre Pio delle Piane accoglieva, ascoltava, confessava, dava consigli spirituali ai tanti gruppi di preghiera, perché padre Pio delle Piane ha costituito e ha formato una serie di gruppi di preghiera ed era un po' diventato il punto di riferimento su Roma, nel Lazio, per i tanti che poi in pellegrinaggio andavano verso San Giovanni Rotondo, fino agli ultimi anni della sua vita, dove lui spesso veniva qui a San Giovanni Rotondo a dare una mano al guardiano intorno agli anni 70 per le celebrazioni eucaristiche, infatti lui veniva spesso a festeggiare il suo compleanno qui a San Giovanni Rotondo. Ma chi era padre Pio delle Piane e perché di questo incontro con padre Pio, che poi abbiamo imparato un po' a conoscere, sono incontri che stravolgono un po'. Che stravolgono la vita di queste persone. 4 gennaio 1904 padre Pio delle Piane, ovvero Pio Edoardo, nasce a Genova, anche qui siamo in una famiglia benestante, una famiglia molto cattolica, anche se la mamma non era d'accordo sul fatto che il figlio potesse intraprendere una strada che era quella dei minimi di San Francesco di Paola, che lui aveva imparato a conoscere proprio nella chiesa di Santa Margherita, vergine e martire, qui conosce la spiritualità di San Francesco di Paola. La mamma non era d'accordo, infatti il giorno che lui andò via di casa, accompagnato da un altro padre, anziché salutarlo, gli tirò dei sassi, quasi perché era contro questa scelta. Ma poi gli anni, ma soprattutto anche i due, si riavvicinarono. E fu proprio la sorella che raccontò che la mamma non era d'accordo, proprio perché nello stesso padre Pio delle Piane aveva avuto una serie di problematiche, tant'è vero fu anche esonerato dal servizio militare, proprio per una deficienza particolare che aveva del perimetro toracico. Problemi di salute. Problemi di salute. La mamma, come ogni mamma per i propri figli, aveva paura di questo. Il figlio era diretto verso quella strada, non voleva ascoltare nessuno, voleva intraprendere quella strada. Così fu, ma poi con la mamma si riavvicinarono, come sempre accade, in una famiglia. Quindi diventa sacerdote nel Duomo di Genova, viene ordinato sacerdote nel 1930. È proprio il periodo di Sant'Andrea delle Fratte, tra il 33 e il 48 a Roma, che è in questo periodo che conosce la spiritualità di padre Pio da Pietrelcina. Lui qui, in questa chiesa, che raccoglie e custodisce le sue spoglie mortali, lui qui si dedica alle confessioni, essendo tanti coloro che lo richiedono. Tant'è vero, sono anche i pellegrini che poi lo stesso padre Pio manda dallo stesso Pio delle Piane. Ecco, qual è stato il suo incontro, questo incontro particolare? Il padre Pio, come hai già anticipato, era Pio di nome e di fatto, quindi era molto umile, molto riservato, però grazie ad un altro figlio spirituale di padre Pio, che è anche lui, verso gli onori degli altari, parliamo del nostro frat Daniele Natale, con cui ha avuto anche una fitta corrispondenza epistorale, circa 100 lettere si sono scambiati con lo stesso frat Daniele, dove fu lo stesso frat Daniele ad accompagnare padre Pio delle Piane qui a San Giovanni Rotondo. Nel 1946, ecco, vado sul virgolettato così non perdo soprattutto il dettaglio. I dettagli dell'incontro che tu descrivi, esatto. Infatti, lui era assalito da brividi, da tremori, immaginiamo come chiunque, quando dinanzi a padre Pio, e lui, padre Pio, giusto per smorzare immediatamente quello che stava accadendo, gli dice, ma fratello, che ti prende la tremarella? Di che cosa hai paura? Giusto per smorzarlo con un sorriso. E di lì, dopo questo incontro che ebbero i due, padre Pio lo definisce, il nostro padre Pio da Pietrelcina lo definisce, non delle Piane, ma delle Alte Piane, delle Alte Vette, dice padre Pio. E ogni volta che veniva a San Giovanni Rotondo, i suoi confratelli dicono, padre, è arrivato qui padre Pio delle Piane, non delle Piane, delle Alte Piane, delle Alte Vette. Quello veramente è un frate che la gente deve andare anche da lui, perché viene da me. Ecco, questo è quello che diceva padre Pio e spesso accadeva per coloro che venivano qui a San Giovanni Rotondo. Quindi fra Daniele e il tramite fra i due, tra padre Pio da Pietrelcina e padre Pio delle Piane. Sì, lui veniva qui, tant'è vero che qualcuno dice, nel momento in cui padre Pio delle Piane giungeva a San Giovanni Rotondo, si spalancavano, si spalancava il portone del convento, perché lui doveva avere, non so, in un certo qual senso la precedenza. Anche perché, questo è un fatto inedito, che pochi sono a conoscenza di questo fatto, il padre Pio delle Piane ha consegnato alla storia un documento che lui ha trascritto, che ha ascoltato dalla sorella del cardinale Sili. Che cosa accadeva? Pio XI, insieme ad alcuni cardinali, tra cui c'era anche il cardinale Gasparri, e il cardinal Sili, ed altri cardinali, i due erano coloro che erano a favore di padre Pio, andava verso una sospensione a divinis del religioso Cappuccino. Che cosa accadde? Durante questa riunione segretissima nello studio privato del papa, il papa XI, un frate, che poi si dice che sia stato lo stesso padre Pio in bilocazione, un frate entra nello studio privato, si rivolge, va verso il papa, si inginocchia, gli bacia il piede, dice, santità per l'amore della Chiesa, non permettete tutto questo. Poi gli bacia di nuovo il piede, quindi inginocchiandosi, e va via. Esce dallo studio, subito uno dei cardinali esce dalla stanza per vedere chi sia, ma questo frate non c'è più, quindi era già scomparso. E questa testimonianza che ha raccolto lo stesso padre Pio delle Piane da una contessa, Virginia Salviucci, vedova Sili, che appunto il cardinale li aveva confidato, e questo è una testimonianza scritta che ha lasciato un po' alla storia lo stesso Pio delle Piane. E ancora lui scrive quanta benevolenza da parte di padre Pio, io mi sento tanto confuso sapendo di essere indegno di tutto questo. Avevano entrambi una perfetta identità di vedute, il Pio Cappuccino, il Pio Minimo, preghiera, sacramenti, carità, sacrificio. Questo fu l'apostolato di questo religioso che era qui anche il 23 settembre del 1968, appena è arrivata la notizia della morte di padre Pio, subito si è precipitato qui a San Giovanni di Otondo, e come vi anticipavo, l'ultima volta è stato qui proprio nel 73 per il suo compleanno, e da quel giorno, una volta che poi è ritornato a Roma, si mise a letto, quasi come il suo ultimo viaggio, si mise a letto, e di lì poi terminò la sua vita terrena. Padre Pio delle Piane, dunque un'altra figura importante che ha contraddistinto la vita di padre Pio da Pietrelcina, un'altra grande figura in cammino verso gli onori degli altari, tanto che è venerabile, dunque prosegue il processo anche di questa figura. Noi nel frattempo ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani con un altro figlio spirituale di padre Pio. Grazie Francesco e grazie a tutti voi.